Questi episodi qui sono un po' dispiaciuti tutti, lui era quello più dispiaciuto perché era seduto con la testa un po' bassa e parliamo del venino domani, ecco, è meglio che avere poi reazioni che possono andare al di là, ma non c'è perché lui stesso si accoglie di aver fatto un errore importante che crea complicazioni alla squadra, soprattutto manca lui stesso, se ne riparla domani.